I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno compiuto un'importante operazione nella piana di Gioia Tauro stessa che ha portato al tratto in arresto di un uomo del posto, già noto alle autorità per precedenti penali. L'accusa nei suoi confronti riguarda la detenzione illecita di una quantità significativa di marijuana oltre alla presenza di un fucile e di munizioni non autorizzate. Durante i controlli condotti con il supporto determinante di una squadra dei carabinieri dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria è emersa una situazione sconcertante dal punto di vista legale. Attraverso perquisizioni mirate sono state esaminate varie abitazioni e durante l'ispezione di un ADS sono stati scoperti numerosi sacchi contenenti marijuana totalizzando un peso impressionante di oltre 188 chili. Le ricerche hanno anche portato al ritrovamento di una quantità minore di hashish alla scoperta di un fucile da caccia insieme a munizioni di diverso calibro. Il tutto illegalmente detenuto. L'uomo responsabile di queste violazioni, nonostante abbia tentato inizialmente di giustificare la presenza della droga presentando documenti che si sono rivelati insufficienti per la legge è stato immediatamente arrestato e su disposizione dell'autorità giudiziaria di Palmi è stato portato in custodia presso la casa circondariale. Tutto il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro ovviamente in attesa delle analisi che verranno condotte presso i laboratori specializzati dell'arma. Quest'operazione rappresenta un duro colpo al traffico illegale di droga nella regione e testimonia l'importante lavoro svolto dalle forze dell'ordine per contrastare questa piega sociale.